Musica Bentornato Gutier, bentornata Dopo aver visto come attivare il sistema operativo cominciamo a vedere come interagire sul computer Nelle ultime lezioni hai già ben visto come autenticare, convalidare una copia di Windows oppure richiedere una certificazione sull'autenticità dello stesso Ora hai il sistema operativo completamente pronto all'uso Mi dirai, ma come si usa? Come interagisco? Beh, naturalmente se ignori la materia totalmente questa è la naturale conseguente domanda ma se hai un po' di dimestichezza da autodidatta oppure se qualcuno ti ha dato una mano nell'introdurti al mondo informatico già qualche azione sei in grado di portarla a termine Ma comunque per non perderci nessuno per strada non diamo nulla per scontato e prendiamo visione da subito di ciò che appare al computer Quello che vedi quando accendi il computer e si presenta la schermata si chiama desktop in inglese in italiano scrivania un po' orribile se vogliamo Questo desktop, questa scrivania presenta delle immagini di piccole dimensioni che sono chiamate icone Alcune sono definite cartelle altre sono definite collegamenti Prima però di entrare nel merito della descrizione di cartelle e collegamenti devo farti prendere coscienza di una cosa molto importante nell'utilizzo del computer Parliamo di menu No, non sei al ristorante, passami la battuta ma questo è il loro nome Ogni volta che utilizzi un pulsante del mouse in particolar modo il pulsante destro in una qualsiasi zona o dello schermo o su un'icona o su una cartella o su un file in genere compare una lista più o meno lunga più o meno ampia Questa lista prende il nome di menu La lista delle opzioni che compaiono dipende da varie situazioni ma comunque è anche personalizzabile Noterai infatti che potrà essere diversa se generi questi menu in una zona vuota del desktop oppure sulla barra dello stesso o ancora su delle icone su dei file su delle cartelle Le opzioni che compariranno in alcuni casi saranno più o meno le stesse ma in altri casi appariranno specifiche per la condizione di uso È praticamente impossibile però darne una spiegazione completa e quindi ti stimolo a sperimentarle nella creazione di questi menu più o meno ampia soprattutto leggendo quel che è mostrato all'atto della creazione in modo che tu possa prendere visione delle opzioni che si creano per ogni determinato menu Durante l'uso del computer e con il tempo imparerai a utilizzarle proprio se attui questa chiave di lettura ossia crearli e visionare le opzioni che vengono generate e soprattutto provare le opzioni che vengono generate In questo momento lo scopo però è soltanto prendere conoscenza dell'esistenza delle opzioni e soprattutto delle potenzialità di questi menu che rendono più facile e rapido l'utilizzo del sistema operativo Torniamo alle nostre cartelle Cos'è una cartella? Ma risponditi a questa domanda Cosa ti ricorda il termine cartella? Sì, puoi assimilarla a quella della scuola Infatti è un contenitore qualcosa che contiene Le cartelle che sono presenti all'interno del sistema operativo altro non sono che la rappresentazione grafica di un contenitore di qualcosa Questo qualcosa sono dei file che sono stati creati dall'installazione del sistema operativo oppure che creerai o inserirai tu personalmente All'interno di una cartella potrai trovare altre cartelle definite come sottocartelle in numero teoricamente indefinito e all'interno di ognuna potrai trovarne altre e così via Qui abbiamo una rappresentazione ipotetica di quel che è una struttura chiamata ad albero Infatti trovi una cartella che ho denominato col nome del sito decudeli al cui interno c'è un'altra cartella e ancora altre cartelle all'interno di ogni cartella potrai trovare o altre cartelle come in questo caso oppure dei file evidenziati qua nella zona destra Qui ho attivato il programma Esplora Risorse che ti permette di evidenziare ciò che è presente all'interno del tuo hard disk Infatti puoi trovare una partizione in questo caso specifico del mio computer dove è installato il sistema operativo ed una partizione creata e denominata backup All'interno ho creato alcune cartelle e sottocartelle che ti permetteranno di evidenziare ogni altra cartella ed ogni file che è presente all'interno del tuo disco rigido Cliccando successivamente sul file o sulla singola cartella potrai avere visione di ciò che è presente all'interno del tuo hard disk quest'ordine ti permetterà di archiviare come meglio credi i tuoi file in modo da organizzarli per un miglior accesso anche agli stessi infatti potrai anche creare delle cartelle specifiche per delle foto per dei video per documenti per musica per delle presentazioni delle lezioni dei progetti raccolte eccetera al loro interno oltre ai file puoi trovare delle icone di collegamento comunque collegamento che normalmente vengono posizionate proprio sul desktop per un più rapido accesso a cartelle file oppure per avviare dei programmi dei processi cos'è quindi un collegamento è un rapporto d'unione un legame una comunicazione una connessione tra due entità te lo spiego meglio con un esempio ricollegati alla struttura d'albero che hai visto prima se devi scovare un file lo andrai certamente a cercare con un programma chiamato esplora risorse che ti permetterà di individuare all'interno dell'hard disk cartelle file generiche le possibili azioni per raggiungerlo saranno un certo numero di click a seconda di quante cartelle o sotto cartelle devi aprire per raggiungerlo ma non sarebbe meglio avere un qualche artificio che ti permetta di collegarti semplicemente al file o alla cartella o al programma in modo che con un solo click ti eviti tutta l'apertura di queste cartelle sotto cartelle certo che c'è questo artificio infatti il collegamento è proprio quanto evidenziato in pratica è come se tu srotolassi un filo che è posto al di fuori della cartella scolastica ma che ti permetta di tirar fuori ad esempio un quaderno posto all'interno un altro filo collegato ad esempio ad un libro un altro filo sarà collegato all'astuccio ed un altro ancora magari ad un componente presente all'interno dell'astuccio che in questo caso rappresenta la sottocartella e così via in maniera indefinita quindi tiri il filo esce fuori ciò che vuoi come puoi capire la differenza tra una cartella ed un collegamento dall'aspetto grafico una cartella si presenta come un'icona a forma proprio di una cartella scusa la ripetizione mentre un collegamento pur essendo simile ad una cartella si differenzia dalla stessa in quanto presenta una piccola freccia di norma freccia presente nella zona in basso a sinistra della stessa in modo da discriminarsi da una cartella qui trovi rappresentato meglio quanto appena detto due collegamenti di prova e due cartelle di prova questa è la freccia che indica specificamente un collegamento qui hai presente un altro collegamento a cui ho cambiato la fisionomia grafica qui sotto trovi una cartella come vedi non è presente la freccia che indica il collegamento e qui un'altra cartella a cui ho cambiato l'aspetto grafico nella prossima lezione vedrai come potrai creare cartelli e collegamenti ora un forte saluto ciao a presto da Carlo e dalla prossima ciao a presto